ciao ragazzi ciao a tutti ancora con i 365 giorni con vale forse vi starete rompendo i coglioni però vabbè vabbè io ho voluto fare questa rubrica vediamo un po se ce la faccio o meno a intrattenervi con 365 giorni certo cercherò di fare altri video però intanto vi faccio vedere questo e questo è un altro paio di orecchini sempre biciplici vedete come sono colorati azzurro rosa verde acqua azzurro bianco molto molto carini e con questo è tutto ciao a domani